in attesa di venire al museo accompagnati dei genitori o con la vostra classe per una visita guidata in un laboratorio didattico scopriamo oggi quali e quanti animali si possono trovare all'interno delle sue sale resti scheletrici animali impagliati oggetti realizzati con parti di animali e manufatti dalla forma animale sono presenti al museo nazionale della montagna sin dal secolo scorso curiosando nelle sale grandi e piccoli possono imbattersi nello scheletro dell'orso bruno preistorico le cui ossa sono state scoperte all'interno della grotta del piccolo ferà sulle alpi marittime cuneesi si tratta in realtà di uno scheletro ricomposto a partire dalle ossa di più esemplari diversi maschi e femmine giovani e adulti con un piccolo sforzo si riesce ad immaginare a partire dallo scheletro la folta pelliccia che ricopre un esemplare di orso bruno gli orsi bruni hanno dimensioni diverse a seconda che si tratti di maschi o femmine si parla di dimorfismo sessuale un esemplare maschio può raggiungere i 250 centimetri di lunghezza e i 350 chili di peso a differenza dei 200 centimetri e 150 chili massimi di un esemplare femmina il suo habitat sono le foreste di alta montagna ricche di cavità rocciose dove l'orso bruno può durante la stagione invernale rifugiarsi per il suo letargo in questo periodo dell'anno l'animale smette di mangiare la sua temperatura corporea si abbassa di 4 gradi e dorme per la maggior parte del tempo fino alla primavera l'orso bruno è un animale onnivoro si nutre di insetti carcasse di animali pesci e vegetali come semi radici germogli bacche e frutti caratteristica inconfondibile dell'orso e la sua impronta in cui sono bene evidenti le cinque dita e i loro artigli zampe anteriori e posteriori e così le impronte che lasciano hanno forma e dimensioni diverse fra loro al secondo piano del museo ci si imbatte in due esemplari di animali impagliati sottoposti ai processi conservativi della tassidermia tecnica di conservazione dei corpi degli animali che avviene attraverso il trattamento delle pelli con sostanze conservative e la successiva imbottitura che consente di dar loro l'aspetto di animali vivi ed ecco uno stambecco giovane delle alpi in livrea invernale proveniente dal parco nazionale del gran paradiso istituito nel 1922 anche allo scopo di salvare questa specie dall'estinzione anche per lo stambecco si osserva dimorfismo sessuale tra maschi e femmine gli esemplari maschio raggiungono altezze di 100 centimetri e peso massimo di 100 chili mentre gli esemplari femmine hanno altezze di 80 centimetri e peso massimo di 55 chili habitat è l'alta quota fino ai bordi dei nevai dove vive in gruppi numerosi in autunno durante la stagione degli amori gli stambecchi maschi combattono tra loro per il diritto all'accoppiamento sfidandosi con violente testate in una lotta che può durare ore fino a che uno dei due non abbandona al campo lo stambecco è un animale erbivoro si nutre di piante di cui consuma rami cortecce radici germogli fiori frutti e semi in particolare felci e graminacee oltre a muschi licheni e funghi inoltre è molto ghiotto del sale lasciato dai pastori per le vacche negli alpeggi l'impronta dello stambecco si legge molto bene anche sulla neve dato il peso dell'animale zampe anteriori e posteriori sono simili e la fessura che divide gli zoccoli non cambia anche quando l'animale corre lunghezza e larghezza invece variano da esemplare maschio a esemplare femmina in corno di stambecco è realizzato questo cimeglio del museo con placche e dicitura in argento il barone peccò a quintino sella per i congressi alpini biella gressonei 1882 il secondo esemplare impagliato presente in museo è un gipeto rapace comunemente noto come avvoltoio barbuto o degli agnelli specie reintrodotta di recente sulle alpi a seguito della sua estinzione avvenuta agli inizi del secolo scorso il suo nome è dovuto ai ciuffi di vibrisse nere che circondano l'occhio e scendono fin sotto il becco a formare una specie di barba tipicamente stanziale il gipeto vive nelle aree montane e nidifica sui diruppi in alta montagna la sua attività principale è il volo con un'apertura alare che sfiora i tre metri spende tre quarti o più del tempo diurno in volo alla ricerca di cibo il gipeto si ciba quasi esclusivamente di carcasse di animali di cui utilizza in particolare le ossa che riesce a sciogliere grazie a succhi gastrici altamente acidi per il consumo delle ossa più grosse gli adulti le lasciano cadere in volo facendole frantumare sulle rocce sottostanti e si dice che la stessa tecnica sia usata per rompere il guscio delle tartarughe per un attento osservatore è poi possibile trovare in museo alcuni reperti dalla forma animale come la mazza da guerra proveniente dalla dac sormontata da una testa bovina oppure oggetti legati alla vita degli animali da allevamento come questo abbeveratoio in legno proveniente da view grazie a tutti ma ora è il momento di mettersi alla prova con animal quiz abbiamo parlato delle impronte degli animali esposti in museo sapresti riconoscerle tra queste impresse sulla neve eccole qua impronte dell'orso bruno e impronte dello stambecco riesci ad abbinare ad ogni animale la sua impronta sulla neve oltre a orso e stambecco deve essere stato facile riconoscere il lupo e il cinghiale quali delle seguenti affermazioni sul gipeto sono vere è un rapace caccia di notte si ciba di tartarughe si era estinto sulle alpi e vive in pianura sono tutte vere tranne caccia di notte e vive in pianura quali delle seguenti affermazioni sullo stambecco sono vere va in letargo vive in branco e ghiotto di sale e onnivoro vive in montagna sono tutte vere tranne va in letargo ed è onnivoro